La pandemia, come ha detto lei giustamente, non solo non demorde, ma ha fatto una forte ripartenza nel numero dei contagi. La variante BA5 è molto contagiosa, pare che sia uno dei virus più contagiosi che mai abbiano interessato, almeno negli ultimi decenni, l'umanità e quindi è molto infettiva e contagia tante persone. Questo ha dovuto far riprogrammare l'azienda sanitaria sia la parte tamponi che anche l'insistenza sulle vaccinazioni. Quindi il padiglione 6 doveva chiudere il 30 giugno, l'abbiamo tenuto aperto intanto per ancora tutto il mese di luglio con linee operative sui tamponi e sulla ripresa della quarta dose per la parte vaccinale. Boom di contagi da Covid in Veneto, oltre 12.000 nelle ultime 24 ore in provincia di Padova, sono circa 2.200 i nuovi casi e in considerazione dell'aumento dei contagi e per andare incontro alla necessità dell'utenza, da oggi e per tutto il mese di luglio sarà possibile effettuare tamponi anche al padiglione 6 della Fiera di Padova. La prenotazione è sempre obbligatoria sul portale aziendale dell'Ulss 6 ed è possibile anche ad accesso libero solo ed esclusivamente esibendo l'impegnativa del medico con la dicitura urgente. Per tutto il mese di luglio saremo aperti dalle 8.30 alle 13 sia per le vaccinazioni che per eseguire i tamponi alla popolazione che ne ha bisogno. Accettiamo anche il libero accesso a persone che hanno un'impegnativa urgente dal proprio medico di base e accettiamo anche le persone che o sono in attesa di negativizzazione o presentano sintomi che si possono prenotare sul sito dell'Ulss 6. Per quanto riguarda invece le vaccinazioni, la maggior parte delle vaccinazioni che eseguiamo ogni giorno è accesso libero e l'utenza solitamente parte dagli 80 anni ma abbiamo anche fragili sotto gli 80 anni.